signore e signori non abbiamo acceso questa sera la videocamera per mostrarvi le immagini di uno spettacolo teatrale che di teatrale non avrebbe nulla perché queste immagini mostrate in un video del teatro non restituirebbero né l'apparenza né la vita no l'autore con tutti i suoi cinque sensi in perfetta condizione di salute avrà non il piacere bensì il cruccio di mostrarvi questa sera un piccolo scorcio di realtà in tempi come questi per vedere teatro bisogna accendere uno schermo e quindi voi questa sera vi aspettate di vedere teatro il che è comprensibile ma oggi l'autore vi atteso una trappola perché aspira a muovere i vostri animi sensibili mostrando cose che non vorreste vedere rivelandovi verità che non vorreste ascoltare continuiamo a vivere nella più povera e triste delle fantasie tutto quello che facciamo è cercare scappatoie per evitare di sapere chi siamo cos'è davvero questa cosa che chiamiamo vita allora quando soffia il vento per non capire quel che dice ci mettiamo a suonare la pianola per non vedere l'immenso torrente di lacrime che ci circonda mettiamo le tende alle finestre per poter dormire tranquillamente e zittire il grillo della coscienza abbiamo inventato gli ospizi adesso direte ma questo è una predica no vi dirò io questa non è una predica questo è federico garzia l'orca e queste parole scritte cento anni fa suonano così bene adesso perché guardare in faccia la realtà è sempre difficile oggi come cento anni fa e mostrarla lo è ancora di più è come predicare nel deserto allora perché quando andiamo a teatro o quando accendiamo la televisione o un computer come facciamo adesso ci aspettiamo di vedere qualcosa che succede davanti a noi e non qualcosa che succede dentro di noi ancora di più adesso che uno se ne sta dietro uno schermo lo spettatore tranquillo perché sa che quello che vede è distante non lo tocca veramente però pensate come sarebbe bello se improvvisamente questo monologo si interrompesse l'attore smettesse di parlare a una camera e parlasse direttamente a te a te spettatore spettatrice dico a te sì 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 proprio tu sì sì tu tu di che stai pensare io ci sei tu esatto sì sto parlando con te lo so che ci sei e anche se io sono a chissà quanti chilometri di distanza chissà quante ore tranquillo in fondo questa è solo una registrazione noi stiamo semplicemente facendo una lettura della commedia senza titolo non stiamo facendo una video performance di teatro streaming interattivo rilassati puoi tornare a rilassarti mio caro spettatore mia cara spettatrice però dal tuo relax pensa 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 come sarebbe bello se un giorno ti chiamassero dal palcoscenico e ti facessero parlare pensa che sarebbe bello se le luci di scena che i tecnici hanno montato e puntato il giorno prima con amore invece degli attori per una volta illuminassero il tuo volto pallido da imboscato adesso che non potete sedervi in una platea proprio adesso forse è il momento giusto per alzarvi alzatevi in piedi è il momento giusto per chiedervi cosa sia davvero questa cosa che noi chiamiamo vita o se volete vi diamo una mano tanto qui davanti a una telecamera mica possiamo fare poesia letteratura teatro e allora forse questa è una buona occasione per capire finalmente che in ogni forma d'arte c'è sempre una buona dose di artificio alzatevi dalle vostre sedie guardate se avete in casa dei fiori vedete noi non potremo mai portare in teatro il profumo dei gigli bianchi figuriamoci se possiamo farlo in video provate ad affacciarvi alle vostre finestre guardate davanti a voi perché noi non potremo mai portare in teatro l'odore dei campi della città del mare ma come si fa a portare l'odore del mare in una sala di teatro basta che non ti lavi per un paio di giorni come si fa a riempire di stelle il tetto di una platea togli il soffitto sfondi il teatro vedi le stelle fatto l'hai portato simo si può sapere che problema c'è no no dimmi che problema c'è se posso continuare a fare la lettura non lo so perché non è qui che devi entrare dopo mi sto mettendo nei panni degli spettatori vabbè ho capito però mettersi nei panni di uno spettatore non vuol dire che devi interrompere la lettura guarda che qui c'è scritto così ma dove è scritto così ma cosa stai leggendo chissà che copione stai leggendo tu ah non so che copione hai tu ma qui c'è scritto così guarda e te lo dico io allora c'è scritto simone mostra il copione ecco l'ho fatto e qui c'è scritto che l'unica legge del teatro è il giudizio dello spettatore michele michele mio ma che c'è c'è un altro a cui hanno dato il copione sbagliato no 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 è l'orca è che la gente si è collegata per vedere teatro dai teatro ma qui mica siamo a teatro ho capito ma pensa che questi qui avevano un biglietto per vedere uno spettacolo di teatro partecipato al teatro dadà e invece si trovano due deficienti che leggono vabbè ma no simon non è così noi non stiamo semplicemente leggendo l'orca noi stiamo provando a dargli vita e lo so che fa paura perché se fossimo in teatro per dare vita all'orca avremmo tirato giù tutte le quinte per fare vedere cosa c'è dietro le apparenze ma in casa e come facciamo ognuno a casa sua dietro uno schermo cosa possiamo fare dai sai cosa possiamo fare pausa già facciamo pausa basta pausa pausa raga pausa anche a casa portatevi un caffè prendete un caffè ma vi puoi portarmi un caffè per favore normale 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 se non ci fosse distanziamento sociale ai piglierei a schiaffi guarda io ti porgerei l'altra guancia sono troppo vicino alla realtà da per farti a sentire che realtà dai ma tu lo sai che cos'è la realtà la realtà è che c'è in giro un virus che di per sé poco più di un'influenza però se ti prende male per una ragione che ancora non conosciamo ci resti secco capisci questa è la realtà sì ma non credo che la gente si sia connessa stasera si sia connessa per aver voglia di prendere delle lezioni di morale né di ascoltare delle cose sgradevoli ringrazia la buona sorte che sei in italia che è un paese amante della morte e non conosce l'orca altrimenti se fossimo stati in spagna ti avrebbero già fischiato guarda bene vado io pensavo che avremmo letto del teatro ecco il caffè grazie grazie ma vi grazie no simo ascolta non si può leggere il teatro perché il teatro è proprio quella cosa che non si può leggere perché il teatro si fa cioè il teatro è quella cosa che accade in un certo spazio in un tempo determinato tra persone reali qui non stiamo condividendo né un tempo né uno spazio non ci sono persone reali ecco io qui non vedo attori vedo solamente immagini di attori capito e chi non vuole sentire questa verità va benissimo però che si turi le orecchie ma vi andiamo via guarda michele è completamente uscito fuori di testa a me interessa quello che sta dicendo michele ecco questo vuol dire che ti interessa la vita la vita che non si trova qui online ok poi l'altro giorno ora che ci penso ero proprio qui ragazzi in questa stanza davanti a una telecamera come questa stavamo registrando vabbè un'altra roba un altro spettacolo e io interpretavo la parte di una donna che moriva di fame in una povera stanzetta e i suoi due bambini che erano ugualmente affamati giocavano così con le mani della morta ma teneramente è come se fossero due pagnottelle gialle e improvvisamente al calar della notte i bambini scoprivano i seni della morta e ci si addormentavano sopra mentre mangiavano se non sbaglio una scatoletta di lucido da scarpe ma che è sta roba ma cosa state registrando è l'orca e Dio sa che quello che dico è l'esatta verità andiamo via va ma dai signor perché vuoi andare via non fare così dai lo sai che il teatro è tutto finto no no che non è finto è la verità e no Michele pure tu basta se mi dice che quella è verità me ne vado pure io d'accordo che orrore che schifo dai ok ce l'hai il passaggio chiamo un taxi no aspetta aspetta scusami scusami Michele com'è che non mi hai detto niente davvero era verità quella non t'hanno detto niente perché sapevano che ti saresti sentita male e guarda se va avanti così la compagnia degli attori di Earth si svuota perché c'è ancora qualcuno lì pensa che quando accettato a me sembrava interessante ragazzi Michele Michele mio si che poi forse anche la gente lo trova interessante in fondo in fondo lo sa che questo non è teatro ma non è teatro nemmeno quello che facciamo in una sala con una scenografia le luci scusa ma questa voce che ti chiamava c'è questa che si è già sentita due volte è commovente ecco quello è il teatro una voce che ti commuove questo caffè fa schifo è quello del teatro della macchinetta per forza il teatro fa tutto schifo il caffè buono è quello del bar e nel bar c'è la vita vera non in teatro che poi secondo me la gente ha più paura della chiusura dei bar che dei teatri perché dici che un bar è meglio di un teatro io sinceramente mi diverto di più quando lavoro al bar come cameriera che come attrice in teatro almeno c'è gente ci viene tanta gente nel tuo bar adesso che siamo in zona gialla più di quella che viene a teatro sì ma anche prima non è che è perché secondo te ma come perché Michele perché è più divertente no ieri per esempio vi racconto questa c'era questo tipo che è entrato e teneva in mano un bambino in una mano e dall'altra teneva un grosso tacchino sì un tacchino davvero gli hanno fatto una gara per vedere quali di due si ubriacava prima ovviamente al bambino gli hanno dato del cognac e al tacchino dell'anice con delle briciole di tabacco e ci siamo fatti un sacco di risate perché si è ubriacato prima il bambino ovviamente è iniziato a battere la testa contro il muro pom tipo capocciate e al tacchino invece abbiamo fatto la testa l'abbiamo tagliata con un coltello e alla fine abbiamo pensato che lo facciamo per natale e questo dicevo vedi vedi la gente ride quando racconti questa storia però piangerebbe se la vedesse rappresentata in teatro c'è bisogno della scena perché non l'ha impedito devo essere gentile con i clienti non hai avuto paura ma paura di che di un bambino e di un tacchino dai mentre gli tagliavano la testa tra l'altro continuavo a muoversi e ci hanno messo quasi una buona mezz'oretta perché la lama ecco nel tacchino non ecco non era tanto affilato e dai Simone dai che cosa ti fa impressione e vabbè allora carnevale l'anno scorso è venuto un tipo che suonava il violino ma ve lo sapete che cos'era questo violino era un gatto tipo brigitta la tua gatta che era crocifisso a pancia in su legato a un tagliere e l'archetto era un grosso fascio di prune che quando passava sull'animale questo emetteva tipo dei miagoli che servivano da musica per il ballo di due donne che erano tra l'altro assai ben vestite questo sì di raso forse una faceva la parte di Pierrot e l'altra di Colombina canta una canzonetta volgare e vedrai che lacrime oh vuoi smetterla ti sto solo dicendo che questa è la vita che vuoi portare in teatro ed è che bisogna svegliare il pubblico bisogna aprirli gli occhi anche se non vuole perché perché vedano guarda sicuro che almeno una buona metà di quelli che ci stanno guardando si sta chiedendo dove recuperare un fascio di pruni per strofinarlo con Piero Godimento su un gatto crocifisso e farebbe bene i gatti sono pericolosi graffiano i bambini poi non sono animali molto fedeli io non voglio fare predica a nessuno voglio solamente che la gente dica la verità e Mavi almeno la sta dicendo in pubblico a metà naturale perché è dietro uno schermo ma in teatro la verità sarebbe così potente da bruciare il cuore di quelli che parlano se vuoi puoi andare Mavi grazie sì sì grazie grazie a te Michele però Michele sì posso restare per fare cosa ma così anche solo per ascoltarmi ma perché è finita la tua parte no è che ma vi esci no è che ho paura Michele hai paura di cosa io ho paura di non avere più niente da dire anche se fosse ah è certo anche se fosse mi sparo bene naturalmente oh la bene possiamo iniziare con la lettura cosa dobbiamo leggere il sogno di una notte di mezza estate la gente piange con l'hotello si diverte con la bisbetica domata ma il sogno di una notte di mezza estate non lo capisce però ride guarda in effetti forse è meglio che non lo capisca è presente di cosa parla no ma io tanto sono un attore ma che mi frega io non so di che cosa parlano le cose che sto facendo ma non c'è niente da ridere sogno di una notte mezza estate mostra che l'amore di qualsiasi genere sia è un evento puramente casuale non dipende in nessun modo da noi capito se tu sei lì addormentato no viene puc ti fanno usare un fiore e al tuo risveglio ti innamori della prima persona che vedi anche se prima di addormentarti è innamorato di un'altra persona capito è tipo la regina delle fate titania ecco così si innamora di un povero artigiano con la testa a forma d'asino ma guarda questa è una verità terribile terribile è una verità distruttrice ecco che può portare al suicidio ma il mondo adesso più che mai ha bisogno di verità consolatrici quindi sai che ti dico che io questa lettura non la faccio no come facciamo a fare la scena del bosco è come la facciamo non lo so fate voi lasciatemi in pace perché questo è l'ultimo giorno che metto piede in un teatro perché io da domani sono in vacanza in sicilia ciao michele michele mio come sarebbe a dire che non vieni io non posso lavorare senza di te io se non vedo il sorgere del sole e se non coro sull'erba così a piedi nudi e solo per seguirti e stare con te qui in questi sotterranei chi ti ha detto di dire queste battute dai in quale spettacolo la facevi questa parte nessuna la sto dicendo adesso per la prima volta bugiarda bugiarda tu non dici mai la verità e se non fossi così lontana ti prenderei a schiaffi per farti dire la verità michele tu credi che perché sei vestita da titania poi se durmi guarda che ti sbagli perché tanto domani sarai vestita da mendicante e dopo domani da serpente nella favola di qualche pessimo poeta e poi di grandama io so soltanto che ti amo michele va bene io vorrei che mi piantassi qui un punteruolo nel petto per vederne uscire un rivolo di sangue bugia e certo bugia bugia come no io sono sola qui eppure nei tuoi occhi doppia mi vedi è così piccola ma se la neve rifugia il fuoco come puoi bruciare labbra così fredde tra due labbra che bruciano come un bracere bugia certo bugia io vorrei che tu fossi un grande cavallo grigio di quelli che escono le prime luci dell'alba a cercare la tua giumenta nell'oscurità delle stalle ma non mi credi vero non mi credi e allora distruggimi e vedrai come muoio tra le tue braccia io fino a ieri vestivo il mio corpo di sete da quando ti ho conosciuto striscerò il fango e l'amore che mi uccide un'altra notte senza di te e il canto dell'allodolo al mattino sarà come un colpo di pistola che mi trafigge il cuore tu non mi dici mai la verità certo né io né gli altri però ti canterai la menzogna più bella anche a me piace la verità ma per un minuto due non di più perché la verità è brutta ma se la dico mi buttano fuori dalla compagnia ma come vorrei mentre stiamo stiamo facendo che ne so una scena d'amore girarmi verso il pubblico e insultarlo così di punto in bianco però il fatto che io ci tengo il mio lavoro io ci tengo basta va bene fuori di qui fuori fuori esci via 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 fuori basta la tua parte era finita venti minuti fa lo so lo so lo so che titania non ti piace perché è una fata e le fate non esistono no ma invece lady macbeth sì lady macbeth dimmi adesso michele hai paura è certo perché sono bella perché sono viva perché sono sazia sazia di te di sangue sazia di sangue vero più di tremila giovani sono morti bruciati dei miei occhi in questi anni giovani che vivevano e che io ho visto agonizzare d'amore fra le lenzuola in che scena di shakespeare è questa battuta eh tu sei solamente un'attrice tu sei solamente una spregevole attrice una commediante una commediante che muore per te michele che ti supplica ti supplica di non abbandonarla per favore staccate la telecamera il microfono tutto tutto staccate tutto a mavi prima inquadrate le mie mani le mie mani che sono piene di sangue io voglio farti la scena finale oh mi avete sentito silenzio devi amarmi e amarmi per forza il sangue che cade sulla terra diventa fango ma che cosa importa a me se muoiono i soldati ma se cade su di un calice di giacinti si muta nel vino più gustoso ma che succede una cosa orribile venite venite dentro dentro la saremo sicuro ma che sono questi spari guardate che non ero io adesso ragazzi le strade sono presidiate dai militari viva la soluzione oddio ma che è no chiudete le porte non fate entrare nessuno no 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 apritele 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 il teatro è di tutti questa è la scuola del popolo no no qui no eh romperebbero tutto ci ruberebbero le telecamere i computer i leggii lascerebbero lo studio di earth ridotto così male che non potremmo più registrare nessun'altra lettura ma magari ho detto di aprire tutte le porte dai 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 non voglio che si versi del sangue vero sui muri della menzogna e va bene va bene ma l'economia l'economia che fine farà l'economia del teatro cosa intendi per economia del teatro è un mistero in cui credo l'economia del teatro un mistero e che tutte le persone sensate rispettano sai che c'è ma chi se ne frega dell'economia chi se ne frega mi avete sentito oh mi avete sentito non aprite michele una pallottola potrebbe uccidervi ma dove è finita adesso lady macbeth lady macbeth non può parlare quando una scarica di pallotto le abbatte le rose dei giardini ecco giusto la polvere uccide la poesia o la salva ma lo dura ma lo dura ci vuole facciamo una gran rosa di teste ribelli addorniamo la facciata del teatro con ghirlande di lingue di quelli che vogliono distruggere le istituzioni scusi chi è lei io non si vede io sono il proprietario del teatro ma lo dura il bene la verità la bellezza di questi tempi devono imbracciare il fucile ben detto cosa dici ben detto perché dici bene perché dici ben detto dai quanto t'ha pagato parte non abbastanza io l'unica cosa che voglio è che mi lasciano recitare tranquillamente la mia parte posso ecco un fiori può essere stella o neve il cielo della notte un drappo rotto che canti la cicala o geme il vento quello che importa è il sogno degli occhi che parte adesso sto facendo la luna di shakespeare ma non qui ma sempre prova a sotterrarmi e vedrai come vengo fuori a fartela lo stesso le forze dell'ordine ora stanno caricando la folla sulla piazza grande e la rivoluzione michele e la rivoluzione c'è il rischio che le pallottole entrino qui no 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 è sul rischio però la starete più protetti il guaio e se vengono gli aeroplani ma non mi importa in ogni caso dai è già non la mia parte il vento non è per me luna d'ottobre né uccello né freccia né sospiro gli uomini dormiranno le erbe muoiono solo vive l'argento del mio anello oddio è così bella questa poesia e forse non me la faranno mai più recitare ma che stai dicendo guardate non vorrei interrompervi ma ho visto arrivare giusto quattro aeroplani che i miei figli oddio i miei figli sono sicura che assalteranno la casa e visto che sono soli con l'istitutrice i domestici alla fine li uccideranno gli operai non hanno mai fatto una cosa simile e non la faranno mai sì che l'hanno fatta lei mente in una rivoluzione di molti anni fa cavarono gli occhi a 300 bambini alcuni ancora adattanti chi gliel'ha raccontato chi è lo stronzo che ha macchiato la sua lingua con un simile orrore risponda lei modere le sue parole parli con la creanza che si richiede un gentiluomo durante la lettura io non sono un gentiluomo e non voglio essere io sono un attore ma definirsi attore michele mio comunque lo so perché un mio amico giornalista rappresenta il fatto e come prova prese due occhi azzurri vivi che mostrava in giro a tutti quanti dentro ho una scatolina di latta mio dio mio dio ci uccideranno ci uccideranno tranquilla ci vado io vuoi uscire sì io seguirò la rivoluzione streaming no michele non ti esporre eh allontana il pericolo del tuo meraviglioso talento guarda che se continua così i sotterranei del teatro saranno il posto migliore di tutta la città si andiamo andiamo tranquillo ci penso io ma chi è quell'uomo niente è un macchinista uomo e come si chiama vacuni il pazzo è soprannominato dai suoi compagni perché vuoi sapere come si chiama così per denunciarlo l'hanno ammazzato ma magari almeno finiva sta lettura potete togliere per favore togliete questi rumori fuori campo disturbano la lettura michele michele mio dai vieni qui per favore ma non c'è alcun pericolo è tutto finto e dai però non ne posso più di fare queste letture così male dai io non ce la faccio più davvero su stiamo scherzando la mia voce mi suona così falsa e non potrà mai commuovere nessuno nessuno diciamocelo anche prima vi ricordate quando dicevo la battuta ai miei figli miei figli sono sicura che assalteranno la casa e visto che sono soli con l'istitutrice i domestici li uccideranno ma dai faceva schifo male male eh faceva schifo non heiese proprio male ragazzi! al fuoco 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 Michele Michele mio Michele ma al prossimo natale un bel goldoni Michele? ma che Michele